Simone, come è il gruppo? Come ti sembra te da veterano, da capitano? No, il gruppo è buono, sono arrivati i ragazzi in gamba che si sono messi subito a disposizione del mister, hanno voluto conoscere i vecchi, si stanno ambientando mi sembra in maniera giusta, hanno voglia di lavorare, di applicarsi e in questo momento penso sia la cosa più importante quella del lavoro, mi sembra che ci siano i presupposti per creare un ambiente giusto, per affrontare una nuova stagione difficile contro squadre molto importanti. Il ritorno in Serie A però crea entusiasmo? Ma quello naturalmente perché arrivai negli stadi veri, vai a giocare contro i grandi campioni, squadre blasonatissime, quindi gli stimoli ce li hai per forza dentro. Sappiamo che non sarà facile perché Siena comunque è una piccola realtà ma con l'arrivo anche del mister e di tanti ragazzi che hanno voglia di mettersi in gioco, di mettersi in mostra, bisognerà amalgamarsi in maniera giusta e poi fare qualcosa di importante. Abbiamo voglia di raggiungere la salvezza al più presto e speriamo facendo anche un buon calcio e delle buone gare. Come valuti il lavoro di Sennino? Che differenza trovi nei lavori degli altri anni, insomma la preparazione degli altri anni? Il mister mi sembra una persona molto determinata, vogliosa, anche lui di mettersi in gioco, ha vinto tanto nella sua carriera, il suo curriculum parla da sé e vincere anche in categorie inferiori non è mai facile e quindi vuol dire che lui è bravo a fare questo ed è di sicuro un punto a suo vantaggio. Poi come tutte le preparazioni c'è da faticare, da correre, da cercare di capire quello che lui ci vuole insegnare e mi sembra che abbia le idee chiare con questo 4-4-2, naturalmente come diceva Emanuele cura molto la fase difensiva perché una squadra come il Siena quando raggiunge la Serie A deve sapersi difendere in maniera giusta perché andremo a incontrare tante squadre molto forti e poi saper però anche allo stesso tempo giocare la palla, ripartire in velocità per andare ad attaccare la porta avversaria. Quindi ora siamo nella fase dello studio e del lavoro, poi piano piano arriverà anche la brillantezza e le giocate ci verranno anche più facilmente. Però io credo che i presupposti siano più che buoni. Anche perché l'inizio del campionato si sta avvicinando, vogliamo parlare di queste prime partite che il calendario riserva al Siena. Appena l'hai visto, cosa hai pensato? No, pronti via, incontriamo la Fiorentina, è un derby, sappiamo che è sentitissimo, quindi abbiamo voglia di far bene. Non ce l'aspettavamo probabilmente così presto, però il giorno d'oggi i calendari non guardano più a niente e ci sta di incontrare la Fiorentina subito. Poi abbiamo una trasferta delicata come Catania, la Juve, la Roma, insomma, sembra che come inizia è bello tosto. Però è anche vero che poi, come dicono tutti le squadre, bisogna incontrarle, bisogna incontrare tutti. Alcuni dicono anche che le grandi meglio incontrarle all'inizio, sei di questa opinione anche tu? Sì, ci può stare, magari se le grandi hanno degli impegni subito importanti e magari stanno più attenti anche alle varie amichevoli che hanno in giro, alle partite, alle coppe. Io dico che è sempre difficile incontrare le grandi squadre in qualsiasi momento dell'anno, però bisognerà arrivare preparati e pronti a queste gare. Un'opinione sul reparto, sul centrocampo, sui tuoi colleghi, come vedi inquadrata la situazione? Come vedi il centrocampo del Siana quest'anno? Lì in mezzo adesso siamo, per ora siamo in quattro, è arrivato D'Agostino che è un signor giocatore, ha grossissima qualità e credo sia un valore aggiunto per questa squadra. E poi tra l'altro è arrivato, mi sembra molto motivato, disponibilissimo, voglia di lavorare, di rifare qualcosa di importante, perché la sua carriera è una carriera che parla da sé, è giocata ad alti livelli, quindi è un gran bel acquisto. Poi c'è ancora Francesco Bolzoni che è rimasto l'anno scorso, che ha fatto un campionato in crescendo, che secondo me ha maturato tanto in un anno, ha una grande forza fisica, anche se ha l'esordio, però mi sembra che ci abbia una gran voglia. E' pronto? Sì, io credo proprio di sì, l'anno scorso è cresciuto tantissimo, è maturato tantissimo e mi sembra pronto. Poi per ora c'è Polco, Andrea, che anche lui è un buonissimo giocatore, che l'anno scorso ci ha dato una mano per sei mesi, poi è andato da un'altra parte, però a buone qualità che si possono sposare bene con gli altri compagni. Poi sugli esterni abbiamo giocatori di corsa e di qualità, come Reginaldo, come Brienza, Sesto Troionello, insomma tanti giocatori che c'erano anche l'anno scorso, che hanno fatto vedere le loro qualità. Alcuni saranno all'esordio in Serie A, però, ripeto, con il lavoro di squadra e di reparto credo che si possa fare qualcosa di buono. Poi lo sappiamo che le piccole squadre devono essere ben organizzate, devono aver voglia di correre, di lottare tantissimo e poi abbinarci un po' di qualità, quello credo sia fondamentale poi. Tu che la Serie A la conosci bene, cosa ti senti di consigliare a giocatori come Emanuele che si affacciano adesso, che devono esordire in Serie A? Magari gli avrai già dati consigli, così, tra voi nello sfogliatoio. Ma no, insomma, io credo sempre nel lavoro, io credo che il lavoro alla fine paghi sempre. Per far bene bisogna lavorare con la testa giusta, ora durante il ritiro, poi durante la settimana, dare sempre il 110% agli allenamenti, perché credo che sia la cosa più importante. Anche se... Io nella mia carriera ho capito che anche se avevo delle lacune in alcune cose, però col tanto lavoro sono riuscito a raggiungere dei piccoli e degli obiettivi anche più grandi, quindi credo che sia fondamentale quello. Il lavoro di squadra è ancora più importante, perché muovendoci da squadra si può raggiungere un obiettivo finale. Grazie a tutti.